DARK FALL DARK FALL DARK FALL No, qui sono troppo scoperto Vediamo All'avanti c'è qualcuno Ok, corriamo, 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 corri Ok Stato fortunato Entriamo qua dentro Che ci vorrebbe essere qualcuno Ok, eccolo Ma è già morto davanti a me, perfetto Ci andiamo giù Non so cosa sia successo Qua c'è uno Perfetto, ammazzato Cerchiamo di rianimare No, 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 no Sto scherzando Vediamo dove è andato No, no Ma giriamolo da dietro Dove è andato? Non mi sono perso Ok, buttiamo il medico di terra e corriamoci Perfetto Che ci sta entrando qualcuno Corriamo, corriamo, corriamo Piano di gente qua davanti Ucciso Torniamo dentro casa Buttiamo un medikit Partita abbastanza movimentata Advanti c'è qualcun altro Diremo una granata C'è più di qualcuno Amperiamo la porta No, è morto il compagno di squadra Rianimiamolo Ho sbagliato a rianimarlo? No, l'ho rianimato Perfetto Tiriamo gli un medikit Perfetto Tiriamo un medikit per me Perfetto, perfetto Da dove arrivano? Hanno finito di rispondare? No Ancora un altro Che è morto Ok Ora sono tutti dall'altro lato Sono circondato Meno uno Sparano da tutti i lati Ricordiamoci Alla finestra c'è qualcuno Cerchiamo di ucciderlo Si è salvato No L'hanno ucciso quella granata Perfetto Usciamo Cerchiamo di avanzare Leggermente Qua hanno distrutto tutto Non so dove nascondermi E rassiciamo i nostri compagni E rassiamola dentro Anche se c'è qualcuno qua a sinistra Che è morto credo Quindi corriamo Corriamo Si chiamano i nostri compagni di squadra Oh Hanno uno Morto C'è un altro qua dietro Ho scaricato un caricatore Ma non è morto Ciamolo qua Perfetto Ucciso C'è un altro Mi ha visto Forse mi ha anche spottato Tiriamo una granata Non ne ho Perfetto Tiriamo un medico per sicurezza No niente Mi ha fatto Vediamo quanto siamo 10 e 1 Buon punteggio per iniziare Buon punteggio per iniziare Andiamo Ingegnere Vediamo Di combinare qualcosa Quindi corriamo Corriamo Andiamo qua a destra Che è abbastanza Mo' diventata questa casa Eccolo uno Perfetto Corriamo dentro Un altro E mi ha fatto di nuovo Ci sta Livello 98 Ed è morto Almeno mi sono vindicato Quindi Ridispieghiamo ancora Corriamo Sta per finire la partita E stanno vincendo Guarda caso I nemici È stata una partita Abbastanza corta Ma È andata bene Rispetto ai miei standard Almeno ho fatto 10 kill all'inizio Della partita Quindi corriamo Cerchiamo di fare Le ultime kill Qui c'è uno Perfetto Ed è finita la partita Vediamo che cosa Abbiamo sbloccato Vediamo Vediamo Divisione 6 Nulla Vediamo con quanto Piego concluso Con un 12 5 Ho fatto troppe morti Alla fine Quindi possiamo concludere Quel video Se vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi Qui da Darkfall è tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima